C'è in corso una polemica su Piazza Verdi, in modo particolare sui nuovi marciapiedi, in particolare sulle corsie degli autobus che sono state contestate in questi giorni. Che cosa dice il Comitato? Il Comitato dice che se questa doveva essere una piazza pedonalizzata, noi l'abbiamo definita criminalizzata, perché la piazza ora non è pericolosa, di più. Ma tutto ciò, lo avevamo già detto abbondantemente appena era uscito il progetto originale, che poi è questo, perché a detta del nostro Comune non ci sono state varianti e quindi è questo qui. Noi avevamo detto che era un progetto insostenibile, che avrebbe reso la piazza estremamente pericolosa e ora lo voglio dire alla cittadinanza, questo è l'assetto definitivo, quindi il traffico girerà così e quindi ho visto venendo qui un'ambulanza che ha transitato ovviamente con le proprie esigenze a tutta velocità, un bimbo che rischiava di finire sotto un filobus. Non c'è nessun tipo di... mancano persino gli scalini perché sono stati levati e quindi il pedone non capisce se è sul marciapiede o... è veramente una confusione generale. Ecco, qualche perplessità anche dal punto di vista del codice della strada, l'avevate appunto sottoposto per quel che riguarda il transito degli autobus. Io inviterei il nostro Assessore Mori a venire in piazza con noi del Comitato Piazza Verdi, metterci dove esattamente copiosamente le ruote dei filobus e anche degli altri mezzi salgono su quella parte di... che io definisco marciapiede anche se è quello scalino abbassato, e di trovare un nuovo vocabolo perché nel codice della strada quello è un marciapiede, non ci possono salire i filobus, gli autobus e i mezzi. Quindi lui coni un nuovo vocabolo e un nuovo codice della strada e allora noi diremo che quella piazza è in regola. Così è assolutamente fuori legge, oltre che pericolosa. Che peggio. A questo punto voi che cosa chiedete? Qui mi rivolgo al nostro signor prefetto, si prenda visione e ci sappia dire se i dubbi che noi abbiamo sollevato sono reali oppure no, se in quella piazza ci sono le condizioni di sicurezza, perché dopo 3 milioni e passa di euro che è costato ai cittadini, pensare che ora si debba rimediare rabberciando con delle fioriere invece che con delle catenelle è semplicemente ridicolo. E se qualcuno si farà male, speriamo di no, ovviamente poi chi si è assunto le responsabilità ne dovrà rispondere.